Buon pomeriggio dalla redazione del Cittadino, facciamo il punto a metà giornata e partiamo dall'incontro avuto dal prefetto con le associazioni di categoria a Lodi per fare il punto sulla movida e sui rischi ad essa connessi a partire dagli assembramenti. C'erano state diverse segnalazioni nei giorni scorsi, questa mattina la convocazione delle parti per analizzare la situazione e sul giornale di domani troverete quindi tutti i provvedimenti che il prefetto si appresta ad adottare. Passiamo poi al taglio del cuneo fiscale, sono oltre 70.000 i lodigiani interessati a questo provvedimento che è stato annunciato dal governo, vedremo se davvero il governo lo porterà poi a compimento e domani sul Cittadino debutta la pagina di economia locale, la pagina appunto dedicata ai temi economici dell'Odigiano e del Sud Milano, tutti i giorni una pagina ad hoc curata da Andrea Bagatta, l'apertura di domani appunto dedicata al cuneo fiscale. Passiamo poi ad altre due iniziative sempre sul Cittadino di domani, questo ampio viaggio a Paullo, domani parliamo della realtà della banda che ha avuto anche un lieto evento, una nascita nel corso di questi mesi e per quanto riguarda invece l'Odi, la pagina verde e la pagina green domani raccontiamo la storia dell'asino fenice, una realtà associativa nuova per la nostra città. Meleniano e Casal Pusterlengo abbiamo le prime maturità quindi i voti dei ragazzi e ancora abbiamo novità per quanto riguarda l'inchiesta di Santo Stefano Lodigiano, quella che come vi ricordate ha portato all'arresto dell'ex sindaco Lodigiani, chiudiamo con questo approfondimento su Linate a metà strada tra il sul Milano ma anche Lodigiano perché tanti Lodigiani lavorano a Linate, l'aeroporto è ancora chiuso, ci sono poche certezze sulla riapertura, ci sono le preoccupazioni dei lavoratori di Linate e delle società che per Linate prestano servizio ma anche le preoccupazioni per tutto il mondo commerciale che attorno a Linate ruota.